L'Abruzzo brucia nel giorno di Ferragosto. Come era previsto, gli incendi hanno guastato, il riposo di Augusto, complici le temperature record e il vento caldo. Le fiamme ieri hanno mostrato tutta la loro violenza nel Terramano. Un vasto incendio si è sviluppato dopo le 13 in località Carapollo-Specola, nelle campagne, alle porte del capoluogo di provincia. Il rogo ha messo a rischio le stalle, le abitazioni della zona e diverse persone sono state evacuate. L'origine del fuoco è ancora probabilmente dolosa. Toleranza zero nei confronti degli autori, ha tuonato il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. La regione deve aumentare le risorse a disposizione di protezione civile e vigili del fuoco, ha poi aggiunto il primo cittadino. Un secondo incendio è divampato a Miano di Teramo, a ridosso del centro abitato, dove la vicinanza alle case e le improvvise volate di vento hanno reso complicate le operazioni di spegnimento. Le fiamme ardevano anche a notte fonda, quando il Canadair ormai non era più autorizzato al volo. In serata un terzo rogo si è acceso a Torricella Sicura, in frazione Colle Fiorito. Il fuoco è giunto a lambire anche la A24, dove è stato chiuso il tratto Valle Vomano-Teramo-Est. Secondo una prima stima, sono oltre 100 gli ettari di vegetazione andati in fumo, ma è probabile che il bilancio dei danni sia destinato a salire. E a due settimane esatte dal terribile incendio che ha devastato la pineta d'Annunziana, l'incubo torna anche a Pescara. Le fiamme ieri si sono alzate nuovamente tra le palazzine del capoluogo adriatico, in un terreno privato a Fontanelle, a due passi dal centro vaccinale di Via Tirino. Incendio questo presto circoscritto come quello di Capistrello, nell'Aquilano. In tutta Italia ieri sono state 44 le richieste di soccorso aereo per domare gli incendi, il 75% in più rispetto al ferragosto dello scorso anno. E' il mondo intero che va a fuoco. Il rogo più vasto è quello in Siberia, nel nord della Russia, dove sono andati in fumo oltre 9 milioni di ettari di bosco e le fiamme ora minacciano perfino il polo nord. I piromani generalmente appiccano il fuoco per profitto, agevolati poi dal surriscaldamento globale, che con il repentino aumento delle temperature fa il resto. Sintomi questi di un vorace modello consumistico destinato a bruciare.